Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? L'Umi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. L'Umi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. L'Umi Beer si abbina a qualsiasi palato. L'Umi Beer è un prodotto esclusivo azienda agricola Pancera. Il buon seme, i buoni frutti. Ritrovata la piastrina dell'alpino manzanese Luigi Godeassi, 16esima compagnia del battaglione cividale classe 1917 disperso sul fronte russo il 26 gennaio 1943. Questa mattina la solenne cerimonia della consegna ai familiari nella splendida cornice del Foladora Manzano. Presenti il sindaco Piero Furlani, il parroco Don Dino Rivetti, autorità militari, civili e rappresentanti delle associazioni in congedo con i rispettivi labari. L'emozione non ha voce nel ricordo vivo e prenne della memoria come ci racconta il pronipote Paolo Godeassi. Beh è stata un'emozione grandissima infatti non nascondo che ho pianto quasi tutta la cerimonia perché trovare in qualche maniera un qualcosa del prozio in questo caso che è tornato in qua in modo roccambolesco ma come hanno sottolineato prima che mi ha preceduto a parlare non è stato un caso probabilmente. Certo. Senti tra l'altro nel corso della cerimonia proprio neanche le coincidenze si dice perché proprio oggi probabilmente ricorre la morte di tuo prozio. Esatto potrebbe essere questa la data esatta ma non è che importi granché però è un'emozione veramente grande. Non ho altro da dire perché tutto quello che hanno detto l'hanno detto che mi ha proceduto in una forma molto corretta. Quello che conta è che è tornato a casa. E quando avete appreso la notizia del ritrovamento della piastrina? Era il novembre del 2019 quindi anche prima della pandemia e poi è stata rimandata per ovvi motivi. Abbiamo approfittato sapendo che domani infatti parteciperemo alla cerimonia di Carniaco dove verrà ufficialmente consegnata perché la piastrina è proprietà del Ministero della Difesa e quindi domani sarà un'altra emozione. Bene, grazie. A lei, arrivederci. Claudin, locale per palati fini e buon gustai dove si mangia, si beve e si respira Perda, Collio e Quei. Sono Claudio Azzano e vi aspetto con le mie specialità. Cosa aspettate? Claudin, food, wine, music e sei in pole position. Grazie.